Ti ricordi quando avevi 16 anni? Attenzione! Age shaming! Eh no, il problema è che tocca dire la nostra età, io non ho problemi, io avevo 16 anni nel 1977, anno top! Beh, io nel 77 non ero ancora nato, ma avevo 16 anni... Andando in ordine cronologico, lascio spazio prima ai signori... Ma avevo 16 anni nel 1982, ero un vero metallaro, ascoltavo The Number of the Beast, degli Iron Maiden... Faccio una scelta un po' più elegante rispetto a quella di Paolo... Che anno era quando avevi 16 anni? 1985 Wow, vedete come saliamo, eh? Saliamo, ci avviciniamo, queste forse ve le ricordate di più Pezzi! Benvenuti a Pezzi! Pezzi, episodio 4! Sì, ma chi siete? Io sono Luca Dondoni Andrea Lafranchi Io sono Paolo Giordano Bello perché mentre lui diceva Andrea Lafranchi guardavo te, sembriamo Totò Peppino la malafemma Devo fermare la deriva verso il basso Perché stiamo bruciando i ponti con la cultura italiana La cultura italiana è stata seriamente messa in scacco dai maneschi Zitti e muti! Riccardo Muti se l'è presa con il manescott Con il manescott o maneschino, quella roba lì Sai perché ha fatto così? Sai perché ha fatto così il maestro Muti? Eh, non è sfuggito a noi che siamo attenti Cari amici, inizia Pezzi, quarta puntata Noi parliamo di musica, di quello che gira intorno Ma soprattutto stiamo attenti a quello che succede E il maestro Muti prende e dice che la cultura italiana Durante un simposio dove si parlava di cultura alta È messa gravemente in pericolo Da gente che magari ascolta gruppacci come i maneskin O manescott Perché dice il nome sbagliandolo Sapendo perfettamente Paolo che si chiamano maneskin Perché Totò Totò Insegnò Insegnò e disse Vuoi offendere qualcuno? Sbagliagli il cognome Sarà la peggiore offesa E infatti sbagliare il cognome di qualcuno Se voi ci fate caso È un qualcosa di molto fastidioso Chiamare i maneskin manescott non è stato carino da parte di Muti Però secondo me ha sbagliato proprio il concetto Cioè la cultura e i maneskin sono due campionati diversi La cultura secondo il maestro Muti è quello di tutelare una casa Dove è nato il librettista di Mozart Lorenzo da Ponte La casa Vittorio Veneto che viene messa in vendita Tra l'altro a poco prezzo da quanto si dice Intervento del ministro della cultura Ovviamente di Sgarbi E tutte queste polemiche Ma i maneskin non sono un'altra cosa Sono due campionati diversi Ma fanno parte La musica è cultura Non capisco per quale motivo In Italia ci sia ancora questa frattura Tra chi fa musica pop Chi fa musica classica Il maestro Muti che è super illuminato Queste cose dovrebbe capirle Anche Gino Paoli? Anche Gino Paoli Non è solo il maestro Muti Infatti e conta che Gino Paoli Probabilmente ai suoi esordi Dalla cultura cosiddetta alta Sarà stato considerato allo stesso modo Ecco questi cantantucoli Perché lo diciamo? Perché Gino Paoli In un'intervista a Rolling Stone Citiamo anche chiaramente la fonte Ha detto Parlando del suo libro Sapete che è uscito un suo libro biografia Ha detto Scritto da Daniele Bresciani Esatto Che citiamo a sua volta Anzi come fa una striscia la notizia Salutiamo Daniele Bresciani Dicevo Ha detto che i Mane Skin funzionano Perché tre bei fighi Con una bella figa Citazione Quindi non mi prendete per volgare Ma questo ha detto È chiaro che funzionano Poi quello che cantano Però intanto sono belli E funzionano anche per quello Ovviamente Gino Lo conosciamo Tu lo conosci meglio di tutti Paolo È una Gino è un'ottima Gino Paoli È un grande artista Vabbè È una persona diretta Immediata Schietta Che insomma Tutte le volte ti spiazza E anche questa battuta È una battuta che Che spiazza Ma come tale Bisogna apprendela Lui è stato Di rottura Esattamente come Tanti altri artisti Quindi Anche lui Quando aveva gli occhiali neri Cantava canzoni All'inizio degli anni 60 Era Su tutti i giornali Esattamente come i Mane Skin adesso Si parlava troppo Di Gino Paoli Si è parlato troppo Di Riccardo Muti E parliamo anche Dei Mane Skin Perché è uscito Rush La nuova È uscito Rush Are You Coming Are You Coming E sono Cinque pezzi inediti Uno dei quali È già andato in radio Quattro No perché uno È già andato in radio Che era Money Are You Coming Quattro pezzi inediti Che a me piacciono un casino Ti piacciono un casino Qual è il preferito? Eh? Trastevere O Valentine No neanche Neanche Valentine Né Trastevere Né Valentine Che sono le due ballad Che sono le due ballad Allora vado subito a prendervi gli altri titoli A me la piace The Driver Allora The Driver è bellissima Bravo Andrea È un pezzo western Non c'è una On the road C'è una chitarona Che insomma Secondo me Non vi ha colpito molto quindi Off my face Ma tra tutti C'è un bel miscuglio di generi Però mi piace molto Diciamo anche che nella versione natalizia Perché questo comunque è un ripack Anche per questo motivo C'è anche The Loud Kids Journal 152 pagine con fotografie Fatte dai fan dei Mane Skin Che questo mi sembra una buona Con sotto il loro commento O fanno le foto dei fan O fanno le canzoni Come con i Coldplay C'è una condivisione C'è una voglia di fan tantissima Ma i Coldplay a proposito Headliner a Grastomburi l'anno prossimo Bella Bella roba questa Glastomburi che ci Vedi che ci Eh Questa è classe No bisogna dirlo Io non lo dico mai Ma stavolta sì Ci ha tirato No La volata per parlare di Glanzo Perché Perché Glanzo ragazzi Glan Glastomburi Ah ok C'è una N di troppo No Glastomburi Si pronuncia E non Glastosmburi Come qualche volta ho sentito Però Glanzo Per dirla in poche parole Ma non c'è la N Glanto Glasto Glasto Sì Va bene Sì Va bene andiamo Facciamo come Fate così Glasto Glasto al limone Tutto a posto È quella roba là Che si usa per i detersivi Glasto al limone Si popizza Per mancanza di rock O è solo una buttata Daily Mail Ragazzi Hanno detto che ci saranno Madonna Dua Lipa Dua Lipa E Coldplay Che ormai non sono più una band rock Diciamolo E quindi voglio dire I tradeliner Madonna Dua Lipa E Coldplay Fanno pensare A una popizzazione Di Glasto Allora Emily Ivis Che è l'organizzatrice Insieme al padre L'organizzatore storico Del festival Rock più importante Ha smentito i tre nomi Però Aveva suggerito lei Che sarebbero state Due donne Su tre Headliner Perché l'anno scorso C'era stato tutto Glasto è diventata maschilista Non ci sono donne Negli headliner Allora quest'anno Letto saranno due E chi? Chi metti come donna? Madonna Dua Lipa Beyoncé E poche altre Possono arrivare A fare l'headliner Di un festival così grande Però secondo me Non è una questione Di vince il pop Per del rock È una No ma Infatti non ho mica detto Che sta vincendo qualcuno Si sta popizzando Sta popizzando Per mancanza di rock Perché effettivamente Uno dei limiti Dei Mineskin È che comunque Non hanno aperto una scena Cioè i Mineskin Sono rimasti L'ultimo L'unico Gruppo giovane In giro In questo momento Che pesantemente A livello mondiale Fa sentire la sua potenza Siete vi do questa Solo per pezzi Vai Vai con solo per pezzi Allora qui c'è Un crash C'è un problema Qui dobbiamo Salvare Marcella Bella Eh sì Perché secondo me Marcella Bella Si è svegliata L'altra mattina E ha detto Davanti allo specchio Secondo me Raffaella Carrà Che cazzo C'ha più di me No? Facciamo così va Vado anch'io In un club Un po' diciamo Divertente E lancio il mio singolo Alle due di notte Il singolo Vado a leggere Si intitola Tacchi a spillo E lo presenta Alle due di notte Durante la serata La boom Ai magazzini generali No però posso dirti Non è un caso Alle due di notte Secondo me Perché sarà l'orario E quale sconturre No sarà l'orario In cui lei passerà Probabilmente A Sanremo Perché molto probabilmente Marcella Bella Yes Anche Marcella Bella A Sanremo E la quota Diciamo vintage Oh signora Oh signora Ah attenzione Cancello Uno dei nomi Della scorsa settimana Vi ricordate che abbiamo fatto il gioco Quante band vanno a Sanremo Ce ne sono troppe Ce ne sono poche Ne avevamo dette quattro Io scendo già a tre Quale togli? Pinguini tattici nucleari Garantito Non vanno a Sanremo Lo hanno chiamato Gli hanno detto Ai rotti con io Adesso basta Quindi senza pinguini Quindi senza pinguini tattici Ma con Marcella Bella Attento hanno chiamato I Subsonica per dire No Guarda che Vabbè Allora Stanno quindi I Subsonica Negra Marro E Colors Come possibili band Colors Io sto Io sto per i Colors Io sto Sicuramente ha ragione Paolo In questo caso Ma Mentre riascoltavo la puntata Rivedevo quello che avevamo detto Un pochettino Sto con Paolo Quando dice Subsonica Rivedo difficili Sono un pochino Non so perché durante la settimana Mi ha Mi ha un po' scesa la catena Sui Subsonica Non sono più così certo Sai quelle cose? Vabbè Stai parlando di Blanco La catena di Blanco Lui ha Della bicicletta di Diamanti Questa è la giornata Ragazzi Questa è la giornata Di collegamento Questa è classe Comunque Blanco Che ha un pezzo nuovo Che sta girando in radio Bruciasse il cielo Stesso titolo Del documentario Di questi due anni On the road Di lavorazione Tra l'altro visto che la foto Mi sa che è sempre fatta È nel kit di foto Kit sarebbe sbagliato dirlo Non è giusto Ripeto È nel servizio fotografico Fatto sul Lago Salato In America Quello da qui Sono contento e felice Quando un artista Scende un po' Da questo treno Che sembra non Deversi fermare mai Sì però Pensaci bene Pensiamoci bene È la negazione Di quanto sta succedendo Cioè Ora conferma Che quello che sta succedendo È esagerato Cioè Abbiamo passato Prima tascorso Gli ultimi due o tre anni A pensare A vedere A chiedere A tutti gli artisti Di essere sempre presenti Di pubblicare Un pezzo ogni mese Ogni due mesi Ogni tre mesi Ma non è possibile È stato un errore Probabilmente è stato un abbaglio E dipende anche Da quanto punti tu Sulla tua carriera Cioè Se pensi di essere E puoi anche pensarlo In tutta onestà Uno che Deve giocarsela subito Fallo Fai di corsa Fai un pezzo ogni sei mesi Ma se vuoi costruire Se vuoi costruire E guardiamo L'abbiamo ripetuto mille volte L'abbiamo citato mille volte Qui Calcutta Che cosa ha fatto Se n'è stato lontano Ha spento i social È tornato È andato al numero uno Ciao Beh però effettivamente Ci sono parecchie notizie In giro per il mondo musicale In questi giorni Non possiamo dimenticarle Anche se sembrano Un po' distante da noi Peggy Gu Col tuo amico Lenny Kravitz Voglio dire È un bel mash up Questo che la dance House E Bella Tosta Si mischi con un rocker Come lui Hanno fatto un disco insieme Meno male Meno male Basta D'altro non è quello Che sta succedendo C'è la mescolanza Di genere E la caduta dei generi Io sono tifosissimo Di questo Io invece no Tu no A me la caduta dei generi Non piace Mi piacevano così tanto Quelle barriere Quel comfort Di essere in una zona E dire Ok mi riconosco Con i miei simili Mi annuso Come gli animali E però non vengo Dall'altra parte Io questa mescolanza Non la prezzo In questa ragione Nel mondo pop Però è giusto Che ci sia mescolanza Ma è anche giusto Che rimangano Quelle sottocategorie Nelle quali Uno si possa riconoscere Cioè il fatto Fateci caso Una cosa che a me Ha fatto Sempre In giro Vedo Tante persone Con le t-shirt Delle band Che per me Erano Il simbolo Di appartenenza Quando ero ragazzino E adesso Le vedo indossate Da gente Che probabilmente Non sa nemmeno Chi sono i Ramons Le portano Solamente per moda Cioè Questa è la caduta L'igiene E su questo Sono d'accordo È partito anche un po' Quella cosa lì Beh Questo date il gancio A me Per dire che effettivamente Poi c'è sempre più gente Che vuole andare A riconoscerci Col genere Che ha amato Vuole andare Ad ascoltare Quello che gli è piaciuto Riprova nel fatto Altra notizia Che spunto Perché me la sono scritta I cranberries Di Dolores Riordan Hanno superato Il miliardo Di streaming Un miliardo Cioè Stiamo parlando Di una band Che ha Una leader Non gli altri Fortunatamente Scomparsa ormai Da anni Quindi evidentemente Tutto quello che si ascolta Di cranberries È solo catalogo E qui do ragione Quello che dicevamo L'altra volta E superare Il miliardo di stream È tanta Tantissima roba Soprattutto con Un repertorio Fatto da 3-4 successi Non 30 Esatto E poi Va detto anche Anche qualcuno in più No a 3-4 grandi successi No ma anche me Ma 3-4 grandi successi Lui parla Delle canzoni Iconiche Iconiche Certo Altro personaggio Che assolutamente Spacca un po' Una sorta di Normalità Rispetto a quella Che è la famosa Rock'n'roll Hall of Fame Certo non è come La povera Povera mi viene da dire Poverina Dolly Parton Che quando l'hanno Inducted Cioè quando l'hanno Chiamata a diventare A entrare Nella Hall of Fame Ha detto Ma io faccio country Non sono rock'n'roll Quindi non entro No poi le hanno spiegato Che in realtà Poteva entrarci Però adesso fa un disco Che si intitola rockstar Certo Ma qui è entrata Missy Elliot E io sono felicissimo Perché è la prima Rapper donna Che finalmente L'academy La rock'n'roll Hall of Fame Fa entrare All'interno Di questa Certo che Missy Elliot Che rompe Diciamo questo Soffitto Di cristallo E però Continuano a non esserci Donne nel mondo rap Che abbiano Una vera credibilità E' ancora lontano E' ancora lontano Anche perché purtroppo Sai La deriva che prendono Vedi Cardi B E' più estetica Che contenutistica A proposito Voi cosa pensate Dell'autotune Perché ad amici C'è questo dibattito Tra l'altro Anche molto forte Sui social Cucarini ha proposto Di fare una puntata intera Senza autotune E invece Rudy Zerbi E la Pettinelli Han detto no Non siamo d'accordo Eh sì Secondo me Sta nel mezzo La verità Sta nel mezzo Io accetto l'idea Che come ha detto Lorella Cucarini In una scuola Insomma devi far vedere Devi metterti alla prova E allora ci sta Che se canti Delle cover Non usi L'autotune Cioè Come dice lei Non ci deve essere L'aiuto Non devi copiare I compiti a scuola Dall'altro punto di vista Però è vero Che oggi L'autotune Non è solo La correzione Per il bestione Che non è capace Di cantare E allora ha bisogno Dell'autotune Per andare Per essere intonato Beh per essere d'accordo Con Rudy Zerbi L'autotune Non è solamente È sempre Solo un correttore Di intonazione Ma è una cifra Stilistica È uno strumento Però spesso È uno strumento Usato così Io sono Come ha detto Bugo Ha detto che lui Ha usato l'autotune L'ha sperimentato Non si trova in linea Perché non gli Consente di essere Quello che lui Vuole essere Allora Se ne è accorto Qualcuno Che Vabbè Questo Vuol dire Che io sono d'accordo Con quello che dice lui Perché l'autotune È Se è uno strumento Believe di Cher Che è stato il primo pezzo Certo Certo Lì era una sorpresa Era uno strumento Perché Cher È intoccabile Se diventa Come diceva Andrea Un modo per coprire E mettere la polvere Sotto il tappeto Allora non sono d'accordo Mi autocontraddico Ho appena detto Nella stessa puntata Riesci a fare Sì sì Nel giro di un minuto Ho appena detto Che nelle cover Non ci sta bene L'autotune Invece Io infatti Ti volevo interrompere Però Dipende da Da che tipo di cover c'è Cioè Holden Che tra l'altro È il figlio di Paolo Carta Certo Si è presentato Con la cover Di Bella d'Estate Di Mango E uno dice No l'autotune lì Non vale Perché tra l'altro Mango Aveva un utilizzo Della voce Senza autotune Pazzesco Però Attenzione La cover fatta Nel modo in cui L'ha fatta Holden Secondo me ci stava Anche l'autotune Ma infatti Quello che dico io Cioè Che diciamo tutti Se l'autotune diventa Uno strumento innovativo Del tuo modo Di essere Cifra stilistica Se fai la cover voce Pianoforte Usi l'autotune Stai taroccando Ragazzi Se Travis Scott O Bad Bunny Gli togli l'autotune Non sono più Travis Scott E non sono più Bad Bunny Se è la tua cifra stilistica Diventa parte Del modo in cui ti esprimi Se è la cifra stilistica Di questi artisti qui Va bene che facciano così Però non lo accetto Se fai la cover E la distruggi No ma non solo Se la distruggi Secondo me Se o la caratterizzi E la trasformi completamente La cover Se hai il coraggio Di trasformarla Allora ci sta Che ci metti l'autotune Cioè tu Parlavamo di Gino Paoli Tu puoi fare il cielo In una stanza Con l'autotune Se sei capace di usarlo Puoi essere anche sorprendente E persino convincente Ma se invece Usi l'autotune Semplicemente Così allora non ha senso Allora Autotune Lasciamola alle spalle Hai riguardato qualche cosa Di X Factor Ti avuto arrabbiare Qualcos'altro Paolo Si è arrabbiato Stasettimana Allora ho visto X Factor Per carità Bello show C'è un po' di Insomma Di scarsa empatia Nella conduzione Ma al di là di questo La scelta delle canzoni E l'allestimento L'arrangiamento Delle canzoni Dei concorrenti Delle cover Mi ha lasciato Insomma Veramente senza parole Nell'ultimo puntato Ho sentito Mi sembra che sia stato Settembre O novembre Come si chiama il cantante Settembre Ha cantato Girls Just Want To Have Fun Di Cindy Loper Di Cindy Loper La puntata si chiamava Musica Ribelle Quindi Cioè Quella cosa In quel momento Nell'ottanta All'inizio degli anni ottanta Stava per dire Che le donne Hanno diritto Di divertirsi Esattamente Come gli uomini Certo Bene Lui ha fatto Una cover Quasi unplugged Tristissima Io Per carità Mi piace La variazione Ma accidenti Ma che tristezza Ma non si può Tradire lo spirito Di una canzone In questo modo Invece Tante volte Succede Che tradire la canzone Va bene A X Factor Vedo una serie Diciamo di Massacrata La cattivere Di questi due ragazzi Ma no Ma non è questione Di Massacrata Io non lo so come mai Vi vedo Vi vedo così Il direttore ha detto Poca empatia Nella conduzione Quindi non gli sta simpatica Francesca Michielini No non è che non mi sta simpatica Non è che non mi stia simpatica Mi sta anche simpatica Ma vedo nella conduzione Però è un po' debole Secondo te Solo per pezzi Sono opinioni Ce n'è una Ho un solo per pezzi Vai Le nuove classifiche Cambiano le classifiche Della Fimi Le classifiche ufficiali Della musica Cosa succede? Dall'anno prossimo Sì Lo annunceranno poi Nei dettagli Nei prossimi giorni Ma come dire Anteprima Anteprima Vai Cambia tutto Allora Primo Rientrano in classifica Gli streaming Free Meno male Quindi Non solo quelli a pagamento Esatto Quindi sia le piattaforme Che usano un sistema doppio Come Spotify Anche lo streaming gratuito Entra nel conto della classifica Ok Di conseguenza Entrano anche Gli streaming video Quindi YouTube Entrerà a far parte Della classifica Si conta Il conversion rate Cioè il tasso di conversione Sarà più basso Cioè se tu hai Un abbonamento premium E paghi Il tuo click Vale di più Vale X Rispetto a quello che Invece lo fa Ascoltando la pubblicità E beh è giusto Altra novità Non c'è solo questo Dal primo geniale 2024 Non si potranno più fare Il re-pack dei dischi Oltre un anno Cioè non puoi fare un disco Ci attacchi due pezzi Ce ne attacco altri due L'anno prossimo E altri due ancora Per restare in classifica Tre anni Madonna Quanta gente Non andrà più a Sanremo Esatto Perché voglio dire Il re-pack Se viva per quello Beh questa è una Una scelta strategicamente Corretta Sono d'accordo Sono d'accordo Anche se Cambia molto Cambia molto Cambia molto E Si toglie sempre Più importanza Al disco Secondo me Parlando di dischi Siamo arrivati a Qual è Si perché E no Perché vuol dire Accorci la vita Di un disco Che adesso invece Riesce Ah tu dici Con il re-pack Diventava più lungo Ragazzi Siamo arrivati al disco Che anche in questo caso Cambia qualcosa Cambiamo dai Nella nostra Seguiamo i trend Di twitter Dici tu Dici tu Andrea vai Allora sta andando di brutto Questo giochino Qual era il disco perfetto Di quando avevi 16 anni Ah io ce l'ho Te lo ricordo Cioè uscito In quell'anno lì Ti ricordo Di quando avevi 16 anni Attenzione Age shaming Eh no Il problema è che Tocca dire la nostra età Io non ho problemi Io avevo 16 anni Nel 1977 Anno top Bellissimo Un sacco di roba Ma in quell'anno Io e di quell'anno Ricordo E amo Amarsi un po' di Battisti L'album Io tu Noi tutti Tutta la vita Ah beh tanta roba Beh io nel 77 Non ero ancora nato Ma avevo 16 anni In ordine cronologico Lascio spazio prima ai signori Ma avevo 16 anni Nel 82 E sarebbe il caso Di Somma Faremo molto Figo dire No in quell'anno Io ascoltavo Combat Rock Dei Clash Oppure Avalon Dei Rocks Music No Era un vero metallaro Ascoltavo The Number of the Beast Degli Iron Maiden Mi dispiace per voi Ma quel pezzo Quel disco Hanno cambiato un po' La mia vita Faccio una scelta Un po' più elegante Rispetto a quella di Paolo Che anno era Quando avevi 16 anni 1985 Wow Vedete come saliamo Saliamo Ragazzino Queste forse Ve le ricordate di più Our Favorite Shop Gli Style Council Paul Weller Che usciva dall'esperienza Dei Jam E faceva questa cosa Elegantissima Riscoprendo il soul Però portandolo Verso più Il mondo bianco Il vero dandy Dandy del rock Non il dandy Non dandy bestia Diciamolo con la pronuncia giusta Un vero dandy Il vero dandy della musica Senz'altro A parte Brian Ferry Secondo me Se la giocavano negli anni 80 Come eleganza Ragazzi siamo arrivati alla fine Salutiamo Io mi sono divertito Voi? Anch'io Anch'io Mi raccomando Mi raccomando Seguitici su tutte le piattaforme Iscrivetevi al canale Youtube E mettete Mettete il vostro disco Dei vostri 16 anni E chi non li ha ancora compiuti Questi cazzi No 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 C'è il reto No